Musica Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con l'attualità, sarà dedicata a Dante Alighieri nel settimo centenario della morte la giostra della Madonna del Conforto. Autore della Divina Commedia che in cento canti riassume tutta la cultura del basso medioevo, Dante Alighieri è unanimamente riconosciuto come il maggior poeta italiano. Tutti i particolari però sulla giosta del Saracino, sull'atmosfera, li vivremo grazie alla nostra diretta 50 ore di giostra che condotta dal direttore Luca Caneschi ci terrà compagnia in questi giorni a partire proprio dalla serata di oggi. E passiamo alla cronaca, controlli sui mezzi pesanti da parte della Polizia Municipale di Arezzo. Vediamo com'è andata. Agenti della squadra motociclisti della Polizia Municipale di Arezzo hanno effettuato controlli sull'autotrasporto di merci e persone. Sono stati interessati 12 veicoli, dei quali due di nazionalità straniera. Dai controlli effettuati attraverso l'analisi dei dati del cronotachigrafo, una componente obbligatoria della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali circolanti in ambito europeo, superiori alle 3 tonnellate e mezzo, dunque autocarri, autotreni, autoarticolati ed autobus, sono emerse varie violazioni alla normativa sul rispetto dei tempi di guida e di riposo. In particolare, sono state 5 le sanzioni elevate per lo sforamento delle ore di lavoro consentite. Ulteriori verifiche hanno permesso di scoprire un autocarro dotato di dispositivo cronotachigrafo analogico di vecchia generazione, sprovvisto dei sigilli attestanti la sua integrità. In questo caso è scattata una sanzione di oltre 1.700 euro e l'immediato ritiro della patente di guida del conducente per la successiva sospensione tra i 15 giorni e i 3 mesi. E adesso la politica. Il candidato del centrodestra nel collegio che comprende anche 5 comuni della Valdichiana-Aretina lancia la sfida di Enrico Letta, che potrebbe essere il candidato del centrosinistra. Tommaso Marrucchesi-Marzi sarà candidato del centrodestra nelle elezioni supplettive che si svolgeranno anche in 5 comuni della Valdichiana-Aretina. Sfiderà Enrico Letta, sempre che il segretario del PD decida di candidarsi. Letta sta seguendo i sondaggi e siccome segue i sondaggi mi è capitato di esprimere una battuta nei giorni passati. Se scendere o meno in campo in questo collegio elettorale mi viene quasi da consigliarli che a questo punto può anche rivolgersi al Magotelma, con tutto il rispetto per il Magotelma. Quello che ho sempre detto già dal 10 di maggio, se sarà un grande nome della politica del centrosinistra a competere con me, sarà l'occasione per me per mettere nel dovuto risalto e all'attenzione della ribalta nazionale quelli che sono i problemi del mio territorio, problemi specifici, fatti di tanta incuria. Io sono radicato qua, vivo qua, qui sono, oltre che i miei interessi, anche i miei affetti, quindi è indubbio che io sarei un parlamentare portavoce di un territorio. Dall'altra parte c'è un soggetto politico indubbiamente prestigioso, professorale, universitario, con esperienze accademiche importantissime, ma quanto poi si cali nella realtà, quanto poi sia in grado, con tutte le correnti con cui è diviso il PD, capace di calpestare la realtà, di camminare la strada come noi imprenditori siamo andati a fare, ho qualche dubbio. Quindi queste figurine panini di questo sondaggio ideale che sembra sia circolato non ovviamente all'interno della mia area, ma nell'area di centrosinistra, dicono che effettivamente la situazione è contendibile. La CNA della Valdichiana ha un nuovo presidente, si tratta di Roberto Menchetti, l'Associazione degli Artigiani sta dunque completando il rinnovo delle cariche nelle varie delegazioni provinciali. Cambio al vertice di CNA Valdichiana, Roberto Menchetti prende il posto di Nico Vanni, per Roberto Menchetti si tratta in fondo di un ritorno, un ritorno in un periodo molto particolare per l'economia e per il settore artigiano in particolare. Sì, è appunto un ritorno perché io in questo periodo appunto ho fatto altre cose, ma sempre nel sistema. È un periodo particolare giustamente, come diceva, perché insomma siamo alla fine, si spera di questo periodo devastante che ha accompagnato l'economia anche in Valdichiana. Quindi, come dire, ci siamo, la struttura funziona, ha dato tanto supporto in questi momenti difficili di questo ultimo anno. Ora si spera tutti in questa benedetta ripresa che appunto la stiamo aspettando. Ecco, lei si trova a presiedere una delegazione come quella della Valdichiana, qualche numero per esempio? A Valdichiana ha quasi 800 iscritti, insomma è un territorio vasto che è in comuni anche importanti come Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano, Monte San Savino e Marciano e Lucignano, quindi anche abbastanza vasto. Ecco, con tutte le particolarità, anche le peculiarità di questi comuni che sono anche vocati al turismo, quindi anche lì ecco c'è del lavoro da fare, bisogna ripartire anche lì, no? E poi un volano che si attiva dal turismo, l'artigianato artistico e tutte le altre imprese che possono, come dire, accodarsi a quello che può essere una buona ripartenza anche per la Valdichiana. E dopo l'economia passiamo alla sanità, è stata confermata la presenza nel reparto di dialisi della psicologa. Vediamo. Si consolida questo rapporto con la psicologa in dialisi, un aiuto importante perché spesso accettare una nuova situazione non è facile. Giustissimo, io diciamo che vivo la dialisi perché fondamentalmente ho 15 anni che faccio dialisi, come si suol dire, ascolto, ho sempre un orecchio testo praticamente per quelle che sono le difficoltà di molti malati e in questa circostanza ho capito che ci poteva essere questa necessità, ossia una figura professionale che fondamentalmente potesse dare un aiuto psicologico ai pazienti. Ce la facciamo a farlo diventare in forma stabile? Ci stiamo lavorando e sono ottimista. Sono particolarmente contento di questa giornata di oggi in cui riaffermiamo l'importanza della presenza dello psicologo all'interno del reparto di nefrologia e dialisi perché i malati nefropatici sono malati complicati, complessi, nel senso che hanno spesso, possono avere delle problematiche di tipo psicologico. Dottoressa, allora l'aspetta a quanto sento un grande lavoro? La speranza è sempre quella. Mi piace ricordare Patch Adams per l'appunto, così richiamiamo un clown dottore che diceva importante se si cura una malattia si può vincere o perdere, ma se si cura una persona si vince sempre ed è proprio questo l'obiettivo del supporto psicologico. C'è stata anche un'importante donazione, questa volta è partita così dalla valigia dei sorrisi. Speriamo che questa sia la prima di una lunga serie, speriamo che si possa continuare in modo che anche i pazienti del reparto di dialisi possano in qualche modo usufruire anche della figura dello psicologo. E dalla sanità alla cultura prende il via nel chiostro della biblioteca di Arezzo la rassegna letteraria dal titolo Scaffali. Previsti cinque appuntamenti di incontri con gli autori. Una rassegna che significa la ripresa delle attività culturali in presenza della biblioteca di Arezzo. Un modo per far conoscere al pubblico le opere più recenti di alcuni scrittori, incentrate soprattutto su tematiche di attualità. Il ciclo di incontri avverrà appunto in presenza all'interno del chiostro della biblioteca della nostra città. Scaffali è il titolo del ciclo di eventi che vedrà protagonisti cinque libri e cinque autori che verranno appunto a presentare i loro libri. Questa è una iniziativa che ha un indubbio valore culturale perché in effetti i libri che vengono presentati sono libri anche di un certo spessore. Sì assolutamente il ciclo deve essere il quanto meno coprire il più possibile anche i temi di attualità per cui sono tutti autori che hanno scritto recentemente, pubblicato in una maniera per poter capire anche quelli che sono gli argomenti più in questo momento di attualità che hanno un'importanza per il nostro paese. Quindi temi che riguardano la mafia, temi che riguardano l'attualità della fisica, temi che riguardano la pandemia, post pandemia, tutti i retroscena che ci sono stati per quello che riguarda il Covid. Quindi un tema che ancora oggi per noi è molto importante. Segnaliamo il primo proprio questo pomeriggio alle 18.30 con Lirio Abbate. E la Libera Accademia del Teatro di Arezzo inizia la rassegna di spettacoli dal castello medievale di Subbiano e anticipa l'estate in cultura del paese del Basso Casentino. Vediamo. Uberto Kovacevic inizio degli spettacoli della rassegna di saggi teatrali. È una stagione lunghissima, si riparte in presenza. Una bella soddisfazione e questa volta si inizia da Subbiano. Si inizia da Subbiano, grazie, grazie per averci accolti qui in questo luogo meraviglioso. Cominciamo con Macbeth, abbiamo una cosa leggerina. William Shakespeare mi ha chiamato, mi ha detto puoi farlo. Io ho detto ma ti do qualcosa di sì, hai poco. E cominciamo stasera qui, Cornice, meravigliosa. E continuiamo poi ad Arezzo e continuiamo fino ai primi di luglio. Andiamo alla grande. Teatro Pietro Laretino, Castel Secco, quindi ormai location già consolidate, già provate, diciamo così, nel tempo. La cosa interessante è che però mi sembra un gruppo ben affiatato questo. Questo è un gruppo di giovani, siamo sulla media di 18 anni, molto molto affiattato. Ragazzi bravi, bravi di quei ragazzi che, come si dice, ce ne vorrebbero altri. Sì, molto bravi. L'aspettativa li ha incuriositi moltissimo, quindi sono partiti a lavorare su questo testo. Alla fine quando ho detto il poto, glielo ho fatto vedere, dico vai, ta, erano già carichi, si sono immersi al 100% nella situazione e anche nel periodo, perché questo castello è proprio del periodo stesso, di quello di Macbeth. Un anticipo di un'estate in cultura, dovremmo dire, proprio in questo 2021 per la ripartenza. Un'opportunità che ci è stata offerta di poter ospitare, frutto del duro lavoro di ragazzi, appunto, della scuola della Libera Accademia del Teatro. L'estate di Subbiano saranno state quest'anno particolarmente ricca, impegnate in particolar modo nella promozione della cultura. L'importanza di ribadire il ruolo dei ragazzi come protagonisti della vita, naturalmente, quindi in tutte le sue sfaccettature. E sono tante le iniziative nate per ricordare Silvana Benigno ad un anno dalla sua scomparsa. Vediamo. Un compleanno davvero speciale per Silvana Benigno. È stata presentata infatti la sciarpa della solidarietà. Il Comune di San Giustino inoltre intitolerà una struttura nel ricordo di Silvana Benigno e il nuovo Dragon Boat che navigherà sul lago di Monte D'Oglio porterà il suo nome. Non sono dunque mancate le sorprese. Nella pomeriggio di festa per il compleanno di Silvana Benigno nello spandido scenario del Parco del Breceto a Selci. È stata prodotta e presentata la sciarpa della solidarietà come quella che la stessa Silvana indossava nelle occasioni migliori e già nei prossimi giorni sarà a disposizione per chi vuole contribuire a sostenere la ricerca sul cancro. La sciarpa viene prodotta a Gricignano da un'azienda locale con i titolari che hanno sposato il progetto solidale dimostrando grande sensibilità. Ma c'è stato anche il momento della presentazione del Dragon Boat in collaborazione anche con i club Lions di Città di Castello e di Sansepolcro. Al proposito abbiamo sentito il presidente del club toscano Federico Romolini. Assieme agli amici del Lions Club di Città di Castello abbiamo partecipato al service del Dragon Boat. Queste barche stile vichingo adattate per una riabilitazione fisica dei malati oncologici. I nostri due Lions hanno partecipato a questo service acquistando i giubbotti salvagente. Davvero una bella iniziativa. Prima di chiudere un'occhiata alla nostra programmazione. Questa sera su Teletruria dopo il telegiornale delle 20 e 30 l'appuntamento è con Sportello Salute a cura di Maddalena Pieroni. Poi dalle 21 e 30 prenderà in via la nostra 50 ore di giostra, la maratona televisiva che la nostra emittente dedica alla più importante e sentita manifestazione di Arezzo. Ed è tutto. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie a tutti.